Salve a tutti, siamo qui io, Francesco Fusillo e Maurizio Marangoni per spiegare come passare dalla Sode Linux 2014 alla Sode Linux 2015. Ecco, si può vedere che da questo scudetto si mostra che non è più supportata da noi né dalla comunità di Mint e quindi nel caso che uno voglia avere la nuova versione, spiegheremo quali sono i passaggi appunto per l'aggiornamento. Maurizio diceva che va ancora molto bene la 2014. Certo, appunto, quando sostituire? Quando si ha necessità di avere una versione recente aggiornata per qualsiasi motivo, hardware o anche per il nuovo software che c'è installato dentro? Nei casi in cui un'aula di informatica funzioni bene, ha tutto quello che serve, è inutile stare lì a fare il passaggio di versione, insomma. Si fa solo quando serve. Quando serve, ecco. Se si vuole l'aggiornamento conviene fare come facciamo noi adesso. Allora, questo è il Sode Linux 2014 di una macchina che è anche Windows, quindi è una macchina che parte in dual boot e per fare ciò ci siamo preparati una chiavetta USB bootabile con il sistema operativo e andiamo a spegnere Sode Linux e riavviarlo in modalità live, cioè con la chiavetta. E poi i passaggi in sintesi saranno cancellare la partizione di Sode Linux 2014, installare il nuovo Sode Linux 2015 nella partizione lasciata libera dalla disinstallazione che faremo e aggiornare Sode Linux 2015 con quelle caratteristiche proprietarie che non possiamo distribuire nella live. Quindi adesso Maurizio sta mostrando la chiavetta pronta, la mette dentro al PC e noi spegneremo la macchina, eccola, spenta e cliccando F12 faremo ripartire la macchina dalla dalla chiavetta. Clicco qua Maurizio, sta ripartendo F12, ecco qua, parte dalla chiavetta USB Kingston, via e adesso parte la live. La live che è stata fatta con un booting, c'è una guida fatta dal nostro amico Davide Montorsi di Livorno. Walter Montorsi, sì, per le guide di Sode Linux, ci permetterà in pochi minuti di fare l'installazione nuova. Ecco, dalla chiavetta la macchina è un po' più performante, non dal DVD, più veloce, specie se è USB 3 come questa macchina qua. Se si dovesse fare una chiavetta bootabile, appunto, si consiglia il video di Walter Montorsi che l'ha fatto molto semplice e molto ben fatto. Sì, ecco, le chiavette si possono fare anche con Windows, scaricando dal sito di Sode Linux il file ISO, eccola qua. E con un programmino sotto Windows che si chiama Lili. Bene, questo è Sode Linux 2015 in versione live, vedete la velocità di montaggio è notevole. Allora, adesso a me interessa subito cancellare la partizione, la vecchia partizione. Non è ancora completamente caricato, eccola qua. Quindi, sistema, amministrazione, gparted, che è il nostro sistema di partizionamento. Qua vedremo il disco fisso come è organizzato. In questo caso è installato anche una versione di Windows 7. Eccola qua. Eccola qua. E questa è la parte dedicata a Linux perché è C4. Quindi disattivo la swap. Poi la cancello e cancellerò anche la partizione. Poi la swap si può anche lasciare. Insomma, per sicurezza cancello tutto. Comunque. Allora, nel caso in cui la RAM sia poca, un giga, consiglio lasciare la swap. Io la cancello. Questa è una macchina che ne ha 8 di giga di RAM e quindi si va molto veloce. Cancello completamente. Ecco, c'è da dire che questa operazione dura pochissimo perché era quasi vuoto. Altrimenti dura un po'. Ecco, adesso praticamente la macchina è defunta perché Windows c'è. Ma il group non troverà più la partizione Linux. Bene. Adesso lancio l'installazione da qui. Ok. La lancio e andremo a dire, nei passaggi di installazione, di installarsi dove c'è il raso di Linux 2015. Ovviamente i file e i documenti che c'erano sul suo Linux vecchio si sono persi. Ecco, è chiaro che vanno... Queste sono le reti Wi-Fi che sono qui presenti. Per ora non ne lasciamo neanche una anche perché in questo caso diventa molto più veloce installare e eventualmente gli aggiornamenti si fanno dopo, non durante l'installazione. A questo punto si clicca avanti e nella prossima schermata si sceglierà la partizione dove andare a installare la nuova distribuzione. Bene. Allora, qui ci sono varie scelte. Install a fianco Windows. Ecco, noi scegliamo sempre altro. Perché questo ci permette di essere molto più precisi e molto più attenti anche nel scegliere lo spazio dove andare a collocarlo. Non è sbagliato scegliere a fianco, però noi scegliamo questo e in questa guida dimostreremo che le cose vanno molto a buon fine. L'abbiamo scelto anche perché prima è stato creato uno spazio vuoto. Quindi siccome ci sono varie partizioni ci vuole un po' di attenzione. Nel caso in cui si faccia un'installazione a fianco dove prima non c'era, c'era solo Windows, si può partire con install accanto. In questo caso fa tutto da solo e diventa molto più, anche la decisione dello spazio da partizionare è tutto in automatico e quindi molto più semplice. Allora, spazio libero che abbiamo liberato prima è questo. Doppio clic, scegliamo la tipo di partizione primaria perché è un sistema operativo che andiamo a installare e mettiamo slash al punto di mount perché appunto è un sistema operativo. Diciamo ok e a questo punto noi andremo a installare il sistema operativo là dove abbiamo creato lo spazio libero. La parte grigia, la parte grigiosa. La parte appunto libera. Diremo installa e ci dice... Sì, diamo le conferme e dopo aver messo la zona geografica, la tastiera e la password la chiameremo scuola come tutti quanti i computer che facciamo. D'aver lasciato... Cancella anche presario scuola... Allora, scuola... E scuola... Bene, aver lasciato... Il nome del computer... Il nome del computer... Richiedi la password per accedere che così ce la ricordiamo. Si dà ok e si aspetta che l'installazione vada a buon fine. Qualche minuto, in questo caso una macchina con 8 giga di RAM... Sono pochi minuti... Saranno pochi... Ecco, qui è partito e noi adesso mettiamo in pausa... Mettiamo in pausa per evitare l'attesa. Ecco, adesso questa schermata ci dice che il sistema è completo. Possiamo riavviare e fare gli ultimi lavori di dettaglio per rendercelo il nostro software Linux molto più usabile. Quindi ricordiamo via e attendiamo il riavvio con il dual boot ripristinato... Però questa volta con soldi Linux 2015. Eccolo qui. Il dual boot è fatto. Come si vede Linux Mint 17 e Windows 7 di sotto. Sarebbe bene partire da Windows 7, ma noi partiamo da Linux... Ecco, è partito Linux... Si è accorto che abbiamo fatto qualcosa... Invio... E facciamo partire... Comunque si parte in modalità normale sempre... Sì... E poi partiremo con soldi Linux... Adesso metto in pausa così partiamo con soldi Linux... E non perdiamo tempo in queste spiegazioni su Windows che non ci entusiasmano. Ecco che è partito soldi Linux... E la prima volta chiederà di logarsi con il nome dell'utente che abbiamo appena fatto che è scuola. Ecco, questa è la prima volta che si entra nel sistema operativo appena installato... Quindi ti chiede chi è l'utente... Inserisci il nome dell'utente... Ne scrivemo scuola... Scuola... Ecco, e adesso la password è scuola... Perché noi abbiamo sempre molta fantasia... Voilà... E adesso si carica soldi Linux... Ecco, il nostro soldi Linux è installato... È funzionante... Sta caricando le ultime cose... La dock station... I saluti di Mint... Ecco... E lo scudetto che questa volta... Dice che è aggiornato perché l'abbiamo appena messo... Ma fra un po' vedremo che ci chiederà degli aggiornamenti man mano che li mettiamo... Ah, per finire... Questa non la vogliamo più vedere... Tiriamo via la spunta... Attiviamo la dinamicità della dock station... Da amministrazione... Preferenze... Attiviamo... Composite manager... Finestre... Usa il composite... Ok... Bene... Adesso attiviamo anche la dock... Perfetto... Adesso lei dovrebbe andare... Eccola qui... Possiamo chiederle di scomparire automaticamente... Cliccando... Sul menu... Opzioni... Scomparsa... Automatica... In dissolvenza... Scomparsa... Intelligente... Automatica così... Eccola lì... Adesso... Per completare l'installazione dovremo installare... I font di Microsoft che sono appunto proprietari... Quindi andando in gestore delle applicazioni... Semplicemente... Passo a scuola... Scrivendo... La ricerca di... MS core font... Noi potremmo avere su questa distribuzione... I stessi font di Microsoft... E quindi produrre... Dei file... Dei file... Di testa... E... Di calcolo... M... S... Core... Font... Che hanno lo stesso aspetto... Di Windows... Usando appunto... Liber Office... Infatti... Installeremo... Arial... E... Tutti questi qui... Che sono... Diciamo... Lo standard Microsoft... Questo aiuta... La compatibilità... Ecco... Perché non può essere installato... Ah... Perché non abbiamo l'accesso a internet... Allora... Adesso ce lo mettiamo... Ok... Adesso abbiamo visto che la connessione è attiva... E installiamo il font... Dobbiamo dare l'ok... Perchè altrimenti... Non si installano... In quanto sono proprietari... E accettare le condizioni di licenza... Eccola qui... E... Una volta accettate... Il nostro Libre Office... E tutti quanti... Gli applicativi... Avranno i font... Classici... Bene... Adesso ho installato... E per... Migliorare ancora... La nostra distribuzione... Manca... Come vedete... Skype... E... Google Earth... Perché sono proprietari... Per poterlo fare... Basta... Scaricare... I siti di riferimento... Sia Skype... Che Google Earth... E... Appunto... Andare ad installarli... Per farlo... Si fa... Così... Google... Google... Punto... It... Ecco... Che ho sbagliato... Ecco... Google... Scriveremo... Google... E... Download... Download... Eccolo qui... Il pacchetto a 64 bit... Perché questa è una macchina a 64 bit... Ecco... Siamo ben attenti... Di fare l'installazione... Con... La configurazione... Architettura... Di riferimento giusta... Accetta... Scarica... Eccolo qui... Salvo... Ecco... Lui si salverà... Nella cartella... Scaricati... Eccolo qui... Sta arrivando... E... Come per... Google... Anche per Skype... Doppio clic... E si installa... E quindi avremo sia Google Earth... Che Skype... Eh... Disponibili... Nella nostra... Eh... Nel nostro nuovo osso di Linux... Adesso installo solo Google Earth... Per far vedere come si fa... Skype... Praticamente... Si fa nella stessa maniera... Un minuto... E il download... 45 secondi... E il download dovrebbe essere finito... Per cui poi dopo... Installeremo Google Earth... Ecco... Nell'attesa... Ho anche cercato Skype... Basta dire... Scarica Skype... E... Eh... Scegli la distribuzione... Eh... Sceglieremo... Ubuntu... Multiarchitettura... 12.04... E... Diciamo... Salva... Ecco... Che... In... 22 secondi... Arriva Skype... Nella cartella... Scaricati... E... Potremo andare a installare... Eh... Sia l'uno che l'altro... Quindi... Eh... Google Earth... Eccolo qui... È già pronto per essere installato... Doppio clic... E... Fra un po'... Avremo Google Earth... Installato... Nella nostra distribuzione... Quindi... Darò... Installa... Ovviamente... La password di amministratore... Hola... I pacchetti si installano... Evidentemente... Questo... Tutorial... Come diceva... Maurizio... È un po' lungo... In questo momento... Sono 17 minuti... Però... Eh... Ci rendiamo anche conto... Che non è... Una passeggiata... Disinstallare... Un sistema operativo... E installare un altro... Quindi... Eh... Bene... Fare le... Spiegazioni... Con calma... E mostrare... Per intero... Tutti i passaggi... Per evitare... Eh... Possibili... Pasticci... Sì... Pasticci... Incomprensioni... Questo è il sistema standard... Comunque... Su una macchina... Che ha Windows 7... Eh... Installato... E... Se vi fosse... Windows 8... La questione... È un po' più complicata... È un po' più complicata... Sì... Ma non credo... Che chi aveva Windows 8... Abbia installato... Sodellino su 2014... Perché... Il 2014... Non aveva risolto... Il problema del UEFI... E quindi... Nessuno penso... Abbia installato... Il Sodellino su 2014... Eh... Invece oggi è risolto... E si può installare direttamente... Ecco appunto... Sulla macchina... E con Windows 8... È... È indispensabile installare... Sodellino su 2015... Esatto... Adesso installo Skype... E questo è un po' più file... Più veloce... Perché è un pacchetto più piccolo... E... Poi dopo... Nel menu... Eh... Internet... Internet... Troveremo tutti e due i software... Perfettamente funzionanti... Dopo questi passaggi che sto... Tutto... Scu... O... La... Facendo... Bene... Ecco... Il pacchetto è stato installato... Chiudo... Questo è ripartito un'altra volta... E dovrei avere... Nel menu... Internet... Eccolo... Skype... E anche Google Earth... Perfettamente funzionanti... E anche... Dentro... Writer... O... Calc... O... LibreOffice... Sì... Tutto il pacchetto LibreOffice... I nostri font... Consueti... Consiglio di usare... Appunto... O Liberation Sums... O... Il Verdana... Il Verdana... E il Time Roma... Eccolo qui... Che è di Microsoft... Lo troviamo dentro... Il pacchetto di font... Il Verdana... Non è... Il Verdana... Eccolo lì... E... Ecco qua... E questo adesso è fatta... Adesso... La nostra macchina è... E... Completamente a posto... Per semplificare... Le voci... Ed evitare... Per alcune macchine... Di... Fare degli errori... Nel Dual Boot... Laddove c'è una partizione di recovery... Qualcuno potrebbe per errore schiacciarla... Allora... Con Group Customizer... Potrò andare a semplificare... Sempre a scuola... Sempre a scuola... Semplificare le voci di partenza... Group Customizer... Gestisce... Appunto... E... La schermata di boot... Vedete... Windows... Mem Test... Mem Test... Queste non servono... Potrei rimuoverli... Questo è il Mem Test... Non serve... Potrei rimuoverlo... E il recovery... La funzione di avvio... In modalità provvisore di Linux... Potrei rimuoverlo... Potrei lasciare... Windows... 7... Rinominarlo... E togliere... Tutto questa roba qua... Così... Quando parte... Si vedrà... Windows 7... E qui... Rinomina... Scrivere... SoDeLinux Mint... O anche solo... SoDeLinux... So... Di... Li... No... S... Hola... E cancellare tutto il resto... Quindi... Quando la macchina parte... Ci saranno due voci... SoDeLinux... Windows... Salvo questa impostazione... E... Alla partenza... L'utente... Non farà altro che... Scegliere... Potrei anche spostare Windows... Su o giù... E quindi... Vuol dire... Partire con priorità Windows... Quello che si mette prima... E quello che parte... Con priorità... Esatto... Ma noi lasciamo la priorità di Linux... Perché siamo... Dei fan di Linux... Adesso faccio... Riavvia... E la macchina... Vi farò vedere... Che avrà... Le scelte semplificate... Ecco che la macchina riparte... E... Là in alto... Come si vede... SoDeLinux... Windows 7... Pulito pulito... Invio... E la macchina è a posto... Parte con... SoDeLinux... Ci scusiamo un po'... Per la lunghezza... Perché sono 22 minuti... Di registrazione... Ma credo che... Un aggiornamento... Di un sistema operativo... Completo... Con la sostituzione... Di uno vecchio... 20 minuti... Di meriti... Di attenzione... Per le guide... SoDeLinux... Francesco Fusillo... E Maurizio Marangoni... Vi ringraziamo... Per la... Per l'attenzione... Adesso aspettiamo... Che parta... Perché se no... Non ci credono... Che parte... Si sta aggiornando... Perché abbiamo installato... Delle cose nuove... Comunque la macchina... È a posto... Eccolo qui... Che sta partendo... E... Ovviamente... Adesso metteremo... Solo la password... Perché l'utente... È già stato logato... Una volta... Ecco... Metteremo la password... Scuola... Et voilà... Eccolo... Che sta arrivando... Con alcuni segnali inquietanti... La batteria guasta... Perfetto... SoDeLinux... È perfettamente funzionante... I suoi software... Sono attivi... Deve finire... Il caricamento... Eccolo qua... Qui ci sono tutti i suoi soldi... Buona sperimentazione... Salute... Salute...